ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è l'ennesimo annuncio del un video che voi sapete già che sapete già dove andare a trovare un video un glitch dei soldi quindi nulla avrete spesso di questi annunci andate nel link sottostante e troverete il video ciao a tutti al prossimo video